siamo qui al passo bernina all'ospizio bernina e ora intervistiamo un ospite dell'ospizio ci dica come si sta qui dell'ospizio è bellissimo io sono qua da tanti anni e sono qua che quando mi ricordo tanto che vedo passare quelli in bicicletta erano i miei tempi ma non erano le biciclette di adesso erano quelle di una volta che pesavano 7 8 kg venivo qua mi facevo le passeggiate ora quando li vedo mi fa tanto pru e io passo qua all'ospizio bernina tutto l'anno quando d'inverno poi c'è la neve e mi ricordo anche quando andavo a sciare era proprio bello è un bel posto è questo molto bello avete una bella vista è bellissima c'è una vista coi monti non le manca male non le manca male di genova ma io vedo l'azzurro c'è l'azzurro del cielo si sta tanto bene qua e forse ci verrà anche la mia amica antonella che quando andava in bicicletta anche lei che andava forte eh andava forte e c'è anche un altro mio amico che viene qua chi è lei gigi ma solo gigi ma solo lo vedo bene la bernina anche me anche me e ma si sta tanto bene ciao ragazzi saluto i potini saluto tanto alessia mia moglie che a genova ogni tanto mi viene a trovare bene ciao grazie